Ragazzi vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademyit.com disponibile su questo link e anche in descrizione dove potete parlare con il mio team gratuitamente su whatsapp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Allora mi chiamo Yasser, ho 18 anni e attualmente studio. Ok, ancora giovane, fresco, puoi ancora battere bene il ferro ed è la cosa che devi fare in questo momento. Allora come valuti il percorso forex o crypto, non so quale tu hai preso, che hai fatto insieme a me? Il forex. Come valuti il percorso forex che abbiamo fatto insieme? Allora lo valuto come un percorso molto interessante, esplicito, chiaro. Non ci sono tanti giri di parole, si va dritto al sodo, comunque a far arrivare velocemente il succo dell'argomento, non stai lì a fare magari dei giri inutili per poi perdere tempo, cioè sei diretto. Perfetto, che è la cosa che mi hanno detto anche tanti altri ragazzi, tanti altri. Vai fare subito il concetto, anche con le spiegazioni, le spiegazioni non sono difficili, stai lì, segui e vabbè dopo che hai seguito, chiudi, studi, le cose ti entrano. Bene, sono contento, quindi parlando appunto proprio del percorso, qual è la cosa che ti è piaciuta di più? Se è il supporto, le lezioni in sé, la chiarezza? Cos'è che ti è piaciuta più di tutto, insomma, dal percorso intero? Le lezioni, le lezioni sono piaciute. Perfetto. Quindi, ti senti soddisfatto? Che risultati hai avuto? Ci vuoi mostrare qualcosa? Ci vuoi far vedere come sta andando il tuo percorso? Non so, se hai avuto qualcosa. Allora, io ho fatto comunque dopo il percorso, adesso comunque ti dico che devo guardare l'ultima tua lezione che hai fatto dalla tua strategia, quella delle 12 medie mobili. Esatto. Poi comunque io ho finito le lezioni, ho avuto dei risultati soddisfacenti, ho fatto 3.000 euro in una settimana. Perfetto. Non è male? Non è male, è male. Poi queste due ultime settimane, due settimane essendo un po' in scuola, alternanza lavoro, perché comunque andavo a lavorare otto ore, uscivo dalle sette del mattino e tornavo alle sette di sera, avevo molto poco tempo. Però comunque tornavo a casa, mi guardavo i miei grafici, cercavo sempre di fare qualcosina. Certo, questi risultati, queste ultime settimane non sono stati come magari la settimana in cui sono stato a casa, una settimana mi sono dedicato al 100% di quello che facevo in questa cosa. Però questa settimana si riprende e si ricomincia. Quindi consigliaresti questo percorso a qualcuno, a chi ci guarda, per far capire comunque che vale la pena per avere un'entrata in più? Assolutamente sì. E dopo aver visto le mie lezioni, come hai valutato le mie strategie? Ti sono piaciute? Hai scontrato qualche problema? Quella di Shumoku, molto interessante come strategia, funziona. Quella di Gappi, dalle 12 medie mobili, ne so, ho già qualcosina in me, già sapevo qualcosina, certo, non ho ancora guardato le lezioni, non so tutto al 100%, però qualcosina già sapevo. Però è già, cioè, è molto interessante come strategia. Ti consiglio di vederla il prima possibile perché è una strategia che ho testato per 5 mesi e la reputo forse leggermente più valida della strategia con i Shumoku che ho modificato anche durante questi mesi, quindi vedi il prima possibile. Bene, Yasser, allora, possiamo dire che da quando hai conosciuto Anthony Rossi la tua vita è cambiata? Sì, sì, è cambiata. Cioè, anche a livello mentale, come guardo le cose, cioè, è cambiata, cioè, è indirizzato nella strada giusta, ecco. Bene, sono contento che pensi questo perché non è solo un percorso dedito a trading, ma anche a un mindset che ovviamente cerchiamo di mettere in ognuno di voi, quindi sono contento, veramente. Anche grazie alle mie esperienze empiriche cerco di fare lo stesso anche nei vostri confronti, che siete i miei studenti, cerco di settarvi nel miglior modo possibile. Grazie a tutti.